E' il comandante dell'esercito di Dio, perciò è un arcangelo, non è un angelo soltanto, ma è un comandante degli angeli, un arcangelo. E anche se è arcangelo, ed anche con quella struttura addosso, un combattente dunque, ma è un combattente che combatte per una cosa molto particolare, l'affermazione del bene sul male. San Michele Arcangelo è colui il quale ha vinto il drago del male, e dunque è una figura attualissima che noi ci dobbiamo portare a fianco. Così come per noi sono angeli, i poliziotti, a cui dobbiamo tanto, e all'abnegazione dei quali spesso questa comunità ha dovuto fornire ringraziamenti. Rendi forti e generosi nella reverenza e nell'adesione alla legge del Signore, quanti la patria ha chiamato ad assicurare tra i suoi cittadini concordia, onestà e pace, affinché nel rispetto di ogni legge sia alimentato lo spirito di umanità fraternità. Per questo imploriamo dal tuo patrocinio rettitudine alle nostre menti, vigore ai nostri voleri, onestà agli affetti nostri, per la serenità delle nostre case, per la dignità delle nostre terra. Amen. Grazie a tutti. Grazie a tutti.